Poteva essere una chance per vincere la partita oggi? Era una partita un po' strana, sono rimasti in dieci loro e hanno trovato un golo sul nostro errore difensivo, però dopo siamo stati bravi a rimettere all'ampiede, loro sinceramente hanno fatto mezzo a tirare un porto sul nostro errore. Pari è giusto, però se c'era una squadra dove meritava qualcosa di più, eravamo noi, anche per la traversa di Costantini. Il tuo impatto con la Serie D, dopo queste tre giornate, com'è? Per ora direi bene, non è come l'eccellenza, però piano piano cercherò di andare in forma e di dare una mano ai miei compagni per raggiungere i nostri obiettivi.